Ciao raga, bentrovati sul mio canale YouTube, come di consueto e come ogni venerdì andiamo ad analizzare quella che è la promo uscita alle 19 su FIFA in questo caso si tratta del team numero 2 dei What If, promo che secondo me si rivela nel complesso un po' fallimentare ma ne andremo a parlare vi ricordo brevemente come funziona questa promo, i giocatori si vanno ad upgradare centrocampisti e attaccanti se la squadra di appartenenza realizza in 5 partite 6 gol, viceversa difensori e portiere si upgradano se nello stesso numero di partite fanno almeno un clichet quindi carte dinamiche ma che possono ricevere un unico upgrade al verificarsi di questa condizione senza perderci totalmente in chiacchiere andiamo ad analizzare i giocatori usciti quest'oggi rapidissimo cambio di schermata e ci ritroviamo sul buon Driss Mertens metto subito le mani avanti perché ho registrato un video che vedrete settimana prossima su quelli che sono i migliori giocatori per campionato serie A eccetera eccetera ovviamente non ho messo questo Mertens, ne parliamo adesso perché non potevo prevedere insomma le carte che uscivano oggi io solitamente mi porto un po' avanti con la programmazione dei video visto che sarò a Milano per la serie A quindi Mertens 1,69m alto-basso piede destro 4-4 quindi già qui sembra avere diciamo tutte le carte in regola per poter essere un ottimo attaccante ottimi i parametri di accelerazione e velocità tanta roba sia quello che è la finalizzazione che la potenza tiro passaggio corto tanta roba peccato il passaggio lungo che poteva essere un pochino meglio freddezza 83 agilità 96 equilibrio 94 91 di controllo palla con le statistiche al top forza 41 quindi questo qua vi assicuro che complice anche quello che è il body type è veramente molto 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 rapido si gira su se stesso come una trottola e io ce lo vedo molto bene in quello che può essere un attacco soprattutto a 2 come seconda punta con accanto uno un po' più fisico quindi al momento secondo me dopo Cristiano Ronaldo in serie A abbiamo il buon Mertens complice anche il fatto che il Napoli diciamo al 90% andrà a segnare queste reti 0.25 quindi prenderà anche un upgrade quindi promosso a pieni voti il buon Mertens stile intesa cacciatore per lui carta che segue è quella di Lucas Leiva anche qui Lucas Leiva non rientra in quella che è l'analisi fatta per quanto riguarda i giocatori di serie A che vedrete in settimana 1,79m normale alto 3-3 3-3 già un pochino mi fa storcere il naso perché almeno un 4 i piedi debole con 4 rimosse skill in mezzo al campo possono fare la differenza abbiamo poi a 81 di accelerazione che boosta tantissimo la velocità quindi quel 75 di velocità scatto significa che sul primo passo magari ha un piccolo boost ma poi sul lungo un po' magari va a perdere complice anche 1,79m di altezza che quindi significa che non ha questa grande falcata ampia tanta roba invece passaggi in mezzo al campo agilità 82 quindi con l'L2 bene o male si muove discretamente freddezza 92 forza 85 90 di aggressività quindi si attacca bene agli avversari per cercare di sottrargli il pallone secondo me è ancora dietro ai vari che si ai vari tonali al vario Duncan che è gratuito Chiellini-Freeze Milinkovic-Headliner una buona carta per carità ma che onestamente non è che mi faccia proprio impazzire Morales il Morales della favola 1,80m di altezza alto normale 4-4 piede destro veloce molto veloce 95 sia di accelerazione che velocità a scatto buona sia la potenza tiro che la finalizzazione devo dire tanta roba anche i passaggi soprattutto il corto agilità 88 equilibrio 90 controllo palla 92 forza 77 questo qua devo dirvi la verità è uno degli attaccanti secondo me più validi in Liga Liga quest'anno che insomma non è che ci abbia questa grandissima alternativa diciamo che è una specie di ansufati va anche per quello che magari può essere il tipo di giocatore quindi se avete una Liga se vi serve un attaccante spagnolo questo qua secondo me è un try può riceverlo tranquillamente non è ovviamente un fenomeno però non è neanche così malvagio statistica alla mano non sembra non sembra ecco così problematico come giocatore un bel un bel cacciatore per lui per boostare i propri tiro e velocità al massimo sapete che sugli attaccanti a meno proprio di 99 di velocità metto comunque cacciatore quindi devo dire che sto Morales potrebbe dire la sua bella cartina è questo Riccardo Pereira Riccardo Pereira che è alto alto di Warcrate 1,75 m 3 di mossi abilità e 4 di piede debole ottima sia l'accelerazione che la velocità scatto buoni passaggi devo dire sia il corto che il lungo agilità 82 quindi si muove discretamente rapido con l'L2 freddezza 84 ottima la lettura difensiva forza un po' deficitaria ma ottima aggressività probabile che il Leicester vada a prendere poi anche quelle che sono le condizioni che lo portano ad upcradarsi quindi questo qua secondo me occhio occhio vi dico perché va a linkare magari anche un ipotetico Cristiano Ronaldo essendo portoghese potrebbe andare effettivamente a fare la parte del cancello quindi occhio perché è molto molto interessante certo non ha la 4 di skill rispetto a cancello però ha dei passaggi che secondo me così a guardarli sembrano meglio del buon Joao quindi occhio a questo Riccardo Pereira secondo me costerà tanto ma si va a inserire prepotentemente in quella che è la categoria dei migliori terzini destri in Premier League Richarlison De Andrade 1,81 m alto alto 4 di skill e 5 di piede debole su questo quindi magari uno direbbe ok top Richarlison wow fantabolante vi dico un buon giocatore ma ma che cosa allora velocità scatto 92 accelerazione 85 va andiamo bene finalizzazione potenza tiro ci siamo passaggio corto ok lungo totalmente da rivedere ottima la freddezza agilità 86 e poi 83 di forza ricordiamoci che parliamo di un giocatore di 1,81 m quindi non è proprio questa grandissima agilità il buon Richarlison né nonostante le statistiche io mi ricordo l'anno scorso la carta che uscita era extra bustata e insomma non è che mi fece proprio gridare di gioia quindi occhio perché sarà una carta stripata che costerà tanto brasiliano di Premier League ci sono tutti gli ingredienti per far sì che in realtà si tratti di una carta molto sopravvalutata quindi occhio ovviamente non vi dico che è da bocciare perché comunque statistica alla mano è da provare è probabile sicuramente soprattutto se ve lo ritrovate non scambiabile in qualche modo stile intesa cacciatore anche per lui e magari vedete un attimino che dovete fare anche un motore magari se volete provare a renderlo più agile ma sapete cosa penso io degli stili intesa quindi il buon Richarlison promosso ma con riserva il buon Toven Floriano 1,79 m alto normale piede sinistro 4 di skill e 3 di piede debole e già su 3 di piede debole il buon Toven insomma perché insomma perché parliamo di un giocatore che non è poi così così basso né così alto quindi una via di mezzo quindi non è neanche così rapido palla al piede nel girarsi visto che ha comunque 71 di forza 89 di accelerazione 85 di velocità scatto quindi non è un fulmine di guerra 89 di potenza tiro e 85 di finalizzazione sono anche accettabili buoni passaggi buona la freddezza buona l'agilità eccetera eccetera però questo Toven ha proprio la faccia di dire sono quello che non è né carne né pesce onestamente non ce lo vedo bene sull'esterno non può fare chiaramente la seconda punta da C.O.C. anche complice il 3 piede debole non può né avere quella pericolosità di finalizzare né la quinta skill insomma molto 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 così il buon Toven preferirei sempre un Neymar eccetera eccetera che comunque ormai sono budget abbordabili ecco per quelle carte lì quindi diciamo bocciato Floriano per quello che mi riguarda invece un'altra carta interessante il buon Reguion un metro e settantotto piede sinistro alto normale due di abilità tre di piede debole veloce ovviamente è veloce passaggio corto ok lungo molto da rivedere raga è lungo importante per i tersini con questi filtranti che girano quindi non sottovalutatelo come parametro agilità 83 freddezza 80 un po' così e così forza aggressività un po' così e così lettura difensiva 84 probabile che il Tottenham riesca a fare un cliché anche se insomma il Tottenham ultimamente non è che se la passi proprio benissimo in caso di upgrade è da valutare però lì a sinistra in Premier League sicuramente c'è un po' di c'è un po' di carestia a memoria mi ricordo Van Anolt ma insomma poco poco altro ecco sotto questo punto di vista quindi se vi serve un tersino di Premier sicuramente la scelta ricade o su di lui o su Van Anolt vi ripeto promosso con riserva perché ci sono dei punti che non mi fanno proprio urlare di gioia sotto questo punto di vista carta molto simpatica è questo Vass un metro e 81 alto normale peccato maledizione per questo 3-3 ma questo c'ha proprio le stazze al posto giusto è veloce ha anche un discreto tiro una buona finalizzazione passaggi veramente top una buona agilità una buona aggressività una buona forza buone statistiche di difesa ottimo controllo palla freddezza questo è veramente un bel giocatorino complice anche il fatto che potrebbe prendere un upgrade anche qui il Valencia non se la sta passando proprio bene però in questo caso bisogna segnare i gol e non subirli quindi magari si potrebbe anche fare ma questo è proprio un bel giocatorino purtroppo è difficile da linkare perché come magari un Valverde o un De Jong sono più facili ok però devo dirvi la verità che magari questo anche da super sub da cc o da cdc ci potrebbe stare è un Gullit Gang tutte le stazze sopra l'80 quindi non posso che approvare il buon Vass peccato maledizione solo questo 3-3 immossiabilità che mi fa veramente storcere il naso però futte se e se e se rendesse il buon Vass chi lo sa promosso con una bella ombretta come stile intesa abbiamo poi Vincenzo Grifo orgoglio italiano 1,80m alto normale 4-4 sicuramente veloce una potenza tiro al top è una discreta finalizzazione i passaggi devo dire accettabili una buona agilità con una forza non così deficitaria buon controllo palla freddezza che siamo un pochino al limite ma questo qua per fare la fascia ci potrebbe ci potrebbe anche stare onestamente certo è comunque un giocatore che gioca nel Friburgo quindi in Bundesliga non è così semplice da linkare eccetera eccetera però magari pure da Super Sub se ve lo ritrovate con un bel cacciatorino ve lo potete andare a mettere il buon grifello sta tutto ingrifato bene vabbè Kepler Lavaran Limaferreira noto come Pepe santo cielo 76 di velocità portoghese del porto 1.88 73 di accelerazione 79 di scatto next penso che Pepe non si schiererebbe neanche lui in campo carta clamorosa crepindiatta ma chi è a parte che c'ha un capello devastante c'ha un sorriso che ti fa innamorare allora questo qua è straveloce 4-4 ti linka Renato Sanchez io ipotizzo un 4-3-3 dove metti un icon ccd diatta Renato Sanchez Neymar bellissimo tanta roba diciamo che doveva uscire Gelson Martins se era parlato è uscito sto diatta velocissimo buona potenza tiro e finalizzazione passaggio corto ok lungo freddezza un po' stentata 99 di agilità 99 clamoroso 99 di agilità tanta roba controllo palla 85 90 di dribbling quella reattività 80 mi lascia un po' perplesso perché comunque un giocatore di 1.75 quindi bello responsive però credo che sarà anche abbastanza ipato valutatelo perché per fare la fascia questo qua è veramente notevole e risolve anche alcuni problemi di intesa se avete un icon e dovete linkare il buon il buon Renatino quindi sto diatta insomma c'è ormai insomma c'è ormai abbondanza lì di esterni non è che mi andrei a sbloccare sto teglio anche perché è della liga spagnolo sì ma c'ha problemi di ibridabilità sicuri insomma non è quel giocatore che ti svolta la squadra dicino devo andare a sbloccare sto teglio quindi onestamente da bypassare cosa che invece non bypasserei è sto guendo zi perché è una carta obiettivo e come vi dico sempre le carte obiettivo gratuite vanno sempre la pena di andarle a sbloccare 3 di moste abilità e 3 di piede debole normale alto ottimi passaggi veramente ottimi peccato la velocità ma potrebbe prendere chiaramente un upgrade agilità un po' così e così quindi con l'L2 magari fa un po' fatica visto anche l'82 di reattività ma anche 81 di forza e 87 di aggressività per cui tanta roba devo dire la verità si attacca sicuramente agli avversari per cercare di sottrarre il pallone è francese gioca in bundesliga però la nazionalità lo aiuta potrebbe farvi anche da super sub sia il cc che il cdc poi vi ripeto è gratuito quanto buono e buono si appa diventa 89 lo buttate in dall'esbc e vi siete parati insomma la chiappa sotto questo punto di vista quindi questo è quanto per quanto riguarda appunto il team 2 dei what if vi ripeto sensazioni un po' negative ci aspettavamo mendiccio aspettavamo nemar aspettavamo gelson martin ci aspettavamo cose ci siamo ritrovati con pepe teio e lucas leiva insomma quindi niente di eccezionale manca anche quel colpo d'artificio come canteo papu comez della prima squadra quindi una promo questa che ha lasciato un po' il tempo che trova secondo me fatemi sapere voi che ne pensate nei commenti vi ricordo di lasciare un bel like iscrivetevi al canale in descrizione trovate tutte le info per quelle che sono i live giornaliere sulla piattaforma viola un salutone al vostro liberoski ragazzi buona serata ci si becca domani ciao ciao